Botta e risposta immediato, così come avviene nel gioco delle parti, soprattutto in politica, tra il sindaco di Gela, Domenico Messinese, e il consigliere comunale, la grillina Virginia Farruggia, che ieri, attraverso una nota del meet-up del Movimento 5 Stelle, si era scagliata contro il primo cittadino e la sua giunta, elencando una serie di problemi non risolti ed accusando la compagine di governo di improvvisazione e di presappochismo. Per Messinese si tratta di un minestrone freddo di menzogne per coprire agli occhi degli elettori un anno di omissioni in consiglio comunale. Volendo sorvolare sul discutibile sostegno che certi grillini hanno accordato alla mia persona in campagna elettorale, dice Messinese, di certo se il tempo perso a lanciare invettive contro l'amministrazione comunale fosse stato speso ad un confronto sano e costruttivo sui drammi ereditati dal passato, almeno avrebbero salvato un'immagine positiva delle proprie condotte. Il loro astio politico, venuto fuori in tutta la sua bassezza dopo la bocciatura dei tre assessori di riferimento, è superiore alla memoria del programma elettorale che abbiamo condiviso. Il sindaco dice che sta per depositare la sua relazione annuale e, oltre ad aver aperto nuovi spazi di operatività, sono stati realizzati già nell'arco di questo primo scorcio di mandato numerosi punti della città in comune, i cui contenuti sono ancora consultabili sul blog di Beppe Grillo. La digitalizzazione della pubblica amministrazione, il bilancio di previsione approvato in giunta in tempi prima inimmaginabili, l'istituzione dell'ufficio Europa e Bandi, le bonifiche in area SIN, le battaglie per la democratizzazione dell'acqua, l'istituzione dell'ufficio di piano per il PRG, la mobilità sostenibile, lo sviluppo dei mezzi pubblici, il monitoraggio dei servizi dell'ASP, il master plan dell'area portuale, la nuova area mercatale, i progetti di Smart City, co-working, sono alcuni dei traguardi del programma, aggiunge Messinese, che abbiamo raggiunto in pochi mesi, nonostante quelle espulsioni virtuali che ultimamente il Tribunale di Napoli ha dichiarato nulle in quanto violano il codice civile. Ma a parte le questioni di legittimità, continua il primo cittadino, per ora mi preme domandarmi se anche il gruppo consigliare eletto alle stesse amministrative di un anno addietro possa vantarsi, come l'amministrazione comunale, di avere onorato anche e solo in parte i patti con gli elettori. Chiariscano le condotte perseguite dopo le elezioni in tema, ad esempio di gettoni di presenza e incarichi vari. Se i loro attacchi spregiudicati nascono con lo scopo di voler distogliere l'attenzione dei cittadini dalle loro inefficace politiche, io, dice Messinese, non mi presterò certo a questo gioco al massacro, ma, a concluso, continuerò a lavorare costantemente per il bene di una città già stanca dei nuovi Pokémon GO della politica.